Persiste il degrado e l'eterno abbandono della zona dell'ex colonia Miralago. Nata come sanatorium di lusso alla fine del 1800, è diventata oggi una delle zone meno sicure di riva. Passeggiando nel parco, sotto gli alberi si trova un po' di tutto, spazzatura, bottiglie rotte e scrementi di cane. Ma c'è di peggio, come le siringhe usate e poi lasciate a terra da balordi dopo le 23. Quando l'illuminazione pubblica si spegne, il parco si anima. C'è addirittura chi ci vive, perché nei vecchi fabbricati della colonia, nonostante gli sforzi per renderli inaccessibili, si entra facilmente e all'interno si trovano vestiti, asciugamani e tracce dell'utilizzo non esattamente appropriato dei servizi igienici ancora funzionanti. Quando il comune tenta di bloccare gli accessi con reti e pannelli alle finestre, dopo pochi giorni vengono vandalizzati con scritte o spesso distrutti. Recentemente sono apparsi sui muri e sugli scalini della vecchia chiesa simboli ispirati a riti satanici. A presidiare la zona, dallo scorso ottobre, è stata assegnata una persona nell'ambito del progettone, con l'incarico di vigilante. Jack Mai, ex legionario di origini irlandesi e cresciuto a Napoli, ogni giorno documenta ciò che riscontra, ma non può intervenire. Essendo da solo, è armato unicamente di una torcia e della radio per comunicare con la polizia municipale. È una presenza indispensabile, ma non sufficiente. Si attende per questo il nuovo piano per la videosorveglianza che l'amministrazione ha approvato a fine 2016, destinando 100.000 euro per l'installazione di telecamere su tutta la fascia lago. Ad occuparsi dei lavori sarà APM. L'amministrazione ci ha commissionato il lavoro per installare le telecamere dalla Fraglia fino al porto San Nicolò, dice Pierluigi Bagozzi, amministratore della società. Ma sono fiducioso che grazie ai ribassi potremo finanziare anche l'installazione di telecamere per sorvegliare Vilino Campi e Miralago. Lavori che dovrebbero essere fatti entro l'inizio dell'estate. Il merito alla questione Miralago è giunto a una nota polemica da parte dei consiglieri di Opposizione 5 Stelle di Riva, Flavio Prada e Andrea Matteotti. Ci complimentiamo con il primo cittadino, scrivono i consiglieri, per la sua marcia indietro e per aver fatto propria l'idea proposta da noi consiglieri del Movimento 5 Stelle ormai un anno fa in un emendamento ed in un ordine del giorno nell'ambito della discussione del bilancio di previsione 2016. Nei documenti facevamo richiesta al Sindaco e alla Giunta Comunale di provvedere alla rimozione di tutte le recinzioni del parco e altre migliorie per favorire la fruizione da parte dei cittadini. Sia l'emendamento che l'ordine del giorno al bilancio furono bocciati da tutta la maggioranza. Siamo contenti che oggi il Sindaco e la Giunta siano tornati sulle loro decisioni e ci auguriamo che alla teoria dei comunicati faccia seguito la pratica dell'esecuzione. Abbiamo inoltre presentato giorni fa 23 emendamenti al bilancio di previsione 2017. Uno di questi prevede anche la costruzione di tre ponticelli sul torrente Varone, un tratto di ciclabile e una scala per facilitare accesso al parco. Grazie.